eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty oggi ragazzi un video incredibile buona domenica finalmente parleremo di black ops 4 me l'avete chiesto veramente in tantissimi quindi fatemi vedere che volete nuovi video informativi sul nuovo call of duty quindi lasciate un mare di mi piace vorrei arrivare per i video informativi sul prossimo cod almeno a 800 mi piace a video informativo quindi subito lasciate un bel mi piace vi ricordo due cose molto importanti ieri sera uscito il primo video gameplay delle mappe multiplayer del dlc1 del resistance che arriverà il 30 di gennaio su ps4 ieri sera vi ho mostrato in anteprima italiana occupation mentre questa sera alla stessa ora quindi alle 19 vedremo sempre in anteprima valkyrie la seconda mappa multiplayer e prima di iniziare vi ricordo sempre anche di passare sul mio profilo di instagram bene da ieri sera è possibile scaricare in pre download il dlc1 or the resistance in arrivo come vi dicevo il 30 di gennaio su ps4 sono arrivate tantissime immagini in rete infatti vi faccio vedere i primissimi screen che dimostrano appunto il lancio del download il peso è di 4,816 gigabyte su ps4 allo stato attuale il pre download sembrerebbe attivato soltanto per coloro che hanno comprato il dlc singolarmente infatti io il season pass ho verificato questa mattina e non posso lanciare il download staremo a vedere se questa sera o il 29 sera sarà possibile anche per noi fare il download anticipato questa cosa sinceramente non la capisco come mai chi ha il season pass non può scaricarlo in anticipo come chi lo compra singolarmente comunque il peso di questo contenuto aggiuntivo è molto corposo perché sono circa 5 gigabyte ma entriamo nel merito del nuovo video informativo su black ops 4 perché vi devo dare delle notizie importantissime secondo le ultime informazioni e rumors in rete sembrerebbe che il prossimo capitolo della trailer che sia ambientato in irlanda e vi spiego subito il perché per chi non lo sapesse james c burns è l'attore che ha giocato nei panni del sergente franks wood sia in call of duty black ops 1 che in call of duty black ops 2 ovviamente quest'attore ha un profilo twitter dove pubblica post immagini su call of duty sulla sua vita e quant'altro ci sono due post importantissime che ha pubblicato in questo mese di gennaio che fanno pensare appunto all'ambientazione del prossimo call of duty li andiamo subito a vedere una testata giornalistica francese gli ha scritto caro sergente franks wood ci può dire la sua opinione in merito al nome del prossimo titolo di call of duty targato treyark sarà un titolo della saga di black ops sarà world at war 2 o una nuova serie e ovviamente lo ringrazia james c burns ha risposto le mie opinioni allo stato attuale mi mettono nei guai soprattutto in questo periodo dell'anno quindi non ha potuto dichiarare nulla in merito appunto al prossimo call of duty però stranamente dicendo in questo modo vuol dire che sa qualcosa sul prossimo call se no avrebbe risposto secondo me in maniera completamente diversa perché è importante questo post perché qualche ora più tardi rilascia un post senza motivo senza domande senza nulla sempre sul suo profilo e dichiara irlanda sto indovinando quindi questo post ha fatto un attimo adrizzare le orecchie di noi cacciatori di news sul prossimo call of duty quindi perché ha dovuto scrivere questo post senza che nessuno glielo abbia chiesto senza aver dovuto rispondere a nessuna domanda quindi ha parlato stranamente dell'irlanda con questa domanda ma sto indovinando voi mi direte amante sì però ci devi dire qualcosa di più cioè non può questa domanda secondo noi andare a portare qualche informazione sul prossimo call sentite bene ragazzi mettetevi seduti vi ricordate a capodanno david vonder della treyarch aveva pubblicato questo post molto strano dove diceva che non voleva fare pubblicità appunto ai lucky charms però voleva pubblicare questo post con l'immagine di una tazza con i cereali augurando il nuovo anno per chi non lo sapesse i lucky charms e lo state anche vedendo dall'immagine sono dei cereali ma andatevi a vedere ragazzi la scatola e la confezione di lucky charms vedrete appunto questo personaggio che ha ovviamente vestiario simbolo e colori dell'irlanda eccola ragazzi un'altra prova di quello che vi dicevo precedentemente non è possibile che due personaggi vicini alla saga di call of duty black ops ma soprattutto vicini alla saga treyarch vadano entrambi a parlare a distanza di pochi giorni di elementi che fanno pensare all'irlanda da una parte uno che lo dichiara proprio pubblicamente dall'altro un altro che senza motivo pubblica una pubblicità di cereali che hanno come logo appunto un personaggio irlandese quindi veramente molto ma molto strano questo che cosa mi ha portato a pensare a un possibile come si vociferava black ops 2 e mezzo oppure un altro capitolo sempre della saga di black ops perché se ben vi ricordate call of duty black ops era ambientato nel 1968 se dobbiamo pensare all'irlanda mi viene in mente l'esercito repubblicano irlandese che veniva chiamato ira che era un'organizzazione irlandese il cui obiettivo era creare una repubblica irlandese dei lavoratori di 32 contei e il periodo era tra il 1969 e il 1972 dove appunto c'erano azioni militari contro l'esercito britannico quindi se dovessi abbinare un evento storico a questi indizi mi verrebbe da dire questo allo stato attuale ragazzi sono ancora indiscrezioni e rumors però state vedendo come cominciano finalmente a trapelare degli indizi che messi uno vicino all'altro cominciano a comporre quello che potrebbe essere il prossimo call of duty fatemi sapere ragazzi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate comunque molto strano che due personaggi della saga di e della saga di black ops vadano entrambi a parlare dell'irlanda quindi qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate spolliciate il più possibile arriviamo a 800 per i video informativi sul prossimo call of duty e noi ci vediamo con tanti nuovi video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.